C'è attesa a Tortorici dopo essere tornata al voto della convocazione del Consiglio Comunale. È una tappa che segna l'apertura del quinto mandato del neosindaco Carmelo Rizzonervo, un momento durante il quale, dopo il giuramento e la convalida degli eletti, saranno scelti Presidente e Vicepresidente dell'Aula, infine il giuramento del Sindaco. Passaggi successivi saranno la nomina delle commissioni e la presentazione della Giunta. Ieri abbiamo ascoltato il primo commento da neosindaco di Carmelo Rizzonervo, oggi quello di Maurilio Foti, classificatosi secondo, che ha annunciato di voler proseguire la sua attività politica in Consiglio Comunale tra i banchi dell'opposizione. Mi era venuto questo pensiero di abbandonare, ma ci ho riflettuto, sarò in prima persona a guidare il mio gruppo di opposizione, perché il mio gruppo di opposizione deve tutelare prima quei 1600 voti che ci hanno dato e tutelare pure anche quelli che da maggioranza me li voglio trasportare con me, non in minoranza, ma sicuramente diventeremo una maggioranza coesa, perché il Paese è spaccato, il Paese lo dobbiamo unire. Il risultato elettorale non è andato come lei ha spiegato? No, guarda, veramente devo dire no, perché io quando vado in una competizione elettorale ho il desiderio sempre di vincere, proprio per la logica e per l'importanza che ho sempre dato alla politica. La politica per me è amministrare, organizzare e proteggere un territorio. Quindi ci credevo a questa vittoria, perché dopo un anno o anni di commissariamento del nostro comune, la gente deve capire che se ci sono commissari nei conti pubblici del mio comune c'è qualcosa che non va. E non certo l'abbiamo creato noi. L'ha creato chi in quel momento stava amministrati. Mi presento con la mia signora, perché lei è la mia, diciamo, sostenitrice morale, perché quando mi impegno sempre in politica è proprio lei che sostituisce me 24 ore su 24, sia nella famiglia, sia nell'attività professionale. Che ospicava un risultato maggiore, che i cittadini dessero magari più forza al suo programma, alla sua candidatura? Io ho una cosa che dico sempre ai cittadini. Per rispetto della democrazia, la democrazia va rispettata andando con le proprie gambe, non trasportandoli. Io penso che l'elettore deve capire che deve andare a votare per la democrazia, non essere supportato e quindi dico comprati il voto per un trasporto che secondo me è indecoroso nel terzo millennio e non è espressione della democrazia.